ciao ragazze buongiorno a tutti perché mi guardi così non ti piace la mia conciatura beh va bene oggi sono in disordine siamo in pulizia ancora e promozioni oggi promozioni di filato estivo cotone partiamo con il cotone nilo filato nilo 70 cotone 30 discosa 300 metri 100 grammi sono gli ultimi 30 gomitoli un po meno non mi ricordo beh vabbè 25 30 gomitoli e solo colore blu prezzo Heidi non so non lo sa perfetto metto tutti i link va bene vi mette tutti i link quindi il nilo è in promozione poi abbiamo in promozione summer in tre colori adesso vi leggo cos'è summer ve lo ricordo allora 100 per 100 cotone 340 metri in 100 grammi tre colorazioni sono rimaste di questo ce n'è parecchio quindi ok summer in promozione anche lui già in catalogo e poi abbiamo macò che vi è piaciuto tanto ma purtroppo il prossimo anno non sarà più a catalogo allora del macò è rimasto il rosa l'arancio il verde questo è nero blu nero blu non mi ricordo come si chiama questo blu nevi blu nevi questo qui è blu nero questo nevi nevi e questo è quello che ho fatto la giacchina io quindi abbiamo parecchie colorazioni ci sono dei buoni quantitativi tranne l'arancio che ce n'è poco anche gli altri due e anche questi però i blu ci sono ancora tutti quanti e ma co l'ho detto cos'è le 100 per 100 cotone 250 metri 100 grammi e anche questo è già in catalogo in promozione hai fatto una ripresa da vicino perfetto poi abbiamo anche il jean in quattro colorazioni ecco qua allora il jean è 90 cotone 6 di scosa 4 lurex 250 metri 100 grammi sempre un made in italy jean fai una bella inquadratura intanto passo di là tutti i gomitoli perché volevo parlare anche di un'altra cosa poi c'è il bic si si c'è il bic c'è il bic ragazze sferruzzate mi raccomando è che vi fa bene alla salute sferruzzare hai visto questi anche questo già in catalogo in promozione andate a vedere scuriosate poi abbiamo il bic in tre colori questo è doppio allora il bic è quella fettucina che è stata usata in mille modi per fare prodotti per la casa da cestini tappeti borse di tutto e di più pochette ho visto fare anche una giacchina dalla nostra amica simonetta giusto simonetta t'accuso dall'inghilterra ciao ciao allora ci segue dall'inghilterra quindi positivo ok allora torniamo a bic bic è 40 nylon 30 cotone 30 viscosa 220 metri in 100 grammi anche di questo ce n'è ancora eh l'abbiamo messo a un prezzo molto molto buono lì e siamo posto quello va lì vi volevamo fare un'inquadratura che stamattina la nostra amica vicina di casa apicoltrice ci ha portato il miele ed erano talmente belli questi vasetti che dovevamo farveli vedere fanno parte della nostra mise en place di stamattina ti faccio ridere Heidi almeno allora vi volevo far vedere anche un'altra cosa si sono aggiunti a agli altri marca punti il numero 9 che è quello giallo e il numero 10 fatto che questo non mi piace il numero 10 quello rosso te li devo sollevare o riesci bene a farli vedere così sapete che mancava il 9 il 10 l'11 il 12 perché sono quelli fatti all'uncinetto allora qui ho usato un anellino l'ho contornato con l'uncinetto e fatto queste questi ciondolini pendaglietti come li chiamiamo ma ma e questo stessa cosa anellino e intorno tutti i corallini gli diciamo che ha infilato quei coralli lì allora ieri è arrivato il ragazzo di Heidi johnny bellissimo ragazzo e bravo anche fra l'altro e ha infilato nel filo tutti questi coralli grazie johnny ciao perché Heidi non ne aveva voglia e non li ha filati quindi gli ha infilato il sumo roso allora 9 e 10 ok e dietro al telefono che ride come una pazza sta ridendo come una pazza voi non la vedete mi dispiace ma ve lo dico io allora questo è quello che vi abbiamo proposto oggi abbiamo in arrivo tante altre cose però non gli diciamo niente le teniamo in suspense bene allora ragazze vi salutiamo caramente e sferruzzate ciao